Buona Dè, è scura di asa e... però porca troia! E c'è il sciopero di filobusse, e ora come fa? Ci vorrebbe quel quadribudiulo di Sumanti Gigi, col Subuster che mi desse un passaggio per andare in città da Benetton. Dè, ma dov'è? Gigi, ci sei? Me lo dai un passaggio? Vieni, squacco, ragazzi, e vuoi un passaggio, scarpare scazzo! Puppami la fava!